Ben ritrovati a Medex News, torniamo a occuparci di un argomento che mi sta particolarmente a cuore soprattutto in questi ultimi periodi in cui i ragazzi volenti e onolenti sono più portati a stare più tempo sul web sia per questione di scuola sia per via della socializzazione e il web sappiamo benissimo può aiutarci in tante funzioni, può fare gruppo come può dividerci e renderci peggiori. Tutto questo ovviamente va valutato, va in qualche maniera contestualizzato e oggi ne parliamo con due insegnanti scrittori che hanno trattato nel loro ultimo volume educare ed educarsi al web questo importantissimo argomento e lo facciamo con la presenza di Marco Pappalardo e Freddy Petralia. Grazie di essere qui entrambi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora voi avete una duplice veste, quella di essere docenti, insegnanti quindi con un ruolo importante in prima linea con i ragazzi e poi quello di aver portato sul libro, quindi sulla carta, una tematica che quotidianamente affrontate nella vostra vita quotidiana, stando a contatto con i ragazzi. Ecco, iniziamo da Marco Pappalardo, come nasce il progetto che poi non è solamente legato al libro ma continua anche sul web, su una pagina che si chiama proprio così come il libro, affrontare queste tematiche? Educarsi ed educare al web questo libro progetto, come è stato ben detto, della San Paolo Edizioni vuole essere l'occasione e l'opportunità di portare al centro della riflessione educativa di tutti gli ambienti educativi, la famiglia, le scuole, i parrocchi, gli oratori, le associazioni di vario tipo che hanno a che fare con bambini, ragazzi, giovani, adulti, questa tematica perché non sia solamente legata a eventuali fatti di cronaco come i recenti tristi che abbiamo vissuto ma possa essere un'occasione quotidiana, ordinaria di riflessione, di studio, di approfondimento con l'attenzione e la cura che non siano solo i ragazzi, i bambini, i giovani, i destinatari ma anche gli adulti, per questo educarsi, gli adulti per due motivi, intanto perché anche loro, anche noi abbiamo a che fare con questi strumenti, a volte da primitivi digitali come a volte siamo definiti, rischiamo di perderci e di sbagliare e tante sono le questioni in cui magari dopo entreremo e poi perché siamo chiamati a educare, a dare testimonianze ai più piccoli perché se no è inutile che poi andiamo a lamentarci che i ragazzi, i bambini, i giovani si disperdano in questo mondo e finiscano nella rete come dei pesci. Ecco, Freddy Petrelia è oltre a essere insegnante, insegna informatica, quindi chi meglio di lui capisce bene i vantaggi, gli svantaggi quando non si è educati del web, no? Beh sì, i ragazzi vengono spesso come nativi digitali perché ovviamente sono nati all'interno di una realtà che fin da piccoli li ha visti i protagonisti di queste nuove tecnologie, ma come si dice in un libro nativi digitali non è essere maturi digitali, quindi bisogna capire che il saper utilizzare uno strumento spesso non vuol dire poi capire l'opportunità di doverlo utilizzare sempre e in qualunque modo. Quindi noi in questo libro andiamo oltre quelli che sono ovviamente i tecnicismi e ci teniamo a sottolineare quelli che sono gli aspetti comportamentali dell'uso di questo strumento. Io proprio oggi con due classi del liceo qui ai Salesiani ci siamo soffermati sui rapporti tra i nuovi media e la vita di coppia o la sessualità degli adolescenti, proprio per fargli capire quanto è attuale questo discorso e quanto attraverso il cellulare in maniera pervasiva passa ormai molto della nostra vita. Vorrei chiedere a entrambi, iniziamo da Marco Pappalardo e poi andiamo a Freddy Petralia. Cazzi, secondo voi sono consapevoli, non sparli tanto, dei pericoli del web? Allora io, dipende naturalmente dall'età e dalla maturità. Se parliamo con già dei preadolescenti degli adolescenti sulla teoria di alcuni elementi, quando per esempio si affrontano questi temi nella scuola o in altri contesti educativi, fondamentalmente ci siamo, eccetto alcune cose un po' più tecniche o più nascoste, però non si può dire che loro non conoscano la teoria e quindi non sappiano quali potrebbero essere i pericoli, difficoltà, quindi di fatto ci sono. La questione è poi la capacità di doversi distaccare dallo strumento in se stesso, dall'uso che se ne fa, da quella sorta di piccola o grande dipendenza che, ripeto, tocca anche gli adulti e non solo i ragazzi. Questo avviene però spesso perché questa, diciamo, distanza tra la teoria e la pratica? Perché di fatto non si è accompagnati sin da piccoli e oppure con costanza anche già da una certa età a un percorso educativo costante, ma perché o lo si scopre all'improvviso a causa di un errore o perché ti mettono davanti una problematica o perché a scuola si fanno queste riflessioni e questi studi, ma se tutte le realtà educative a partire dalla famiglia e poi pian piano agli ordini dei gradi di scuola si facesse questo percorso insieme, non solo con l'ora di informatica che è importante, ma è importante anche per altri aspetti, ma dedicata all'educazione digitale e non solo qualche progetto e l'accompagnamento attraverso libri, strumenti, approfondimenti web o incontri con esperti, questo naturalmente porterebbe a una graduale crescita e consapevolezza e dunque a imparare, impararne l'uso gradualmente e affrontando pian piano le diverse difficoltà. Ok, entriamo a questo punto nel vivo delle problematiche con cui voi vi scontrate e soprattutto poi evidenziate nel libro. Fredi Petrelia, quali sono i principali fattori che voi avete analizzato e riportato appunto nel libro? Ma noi abbiamo analizzato un po' 30 situazioni reali, il libro nasce dal basso, cioè nasce dal vissuto quotidiano, dagli articoli, da esperienze mie e di Marco e fanno riferimento un po' a tutte quelle che sono le problematiche che girano attorno al mondo del web, dal cyberbullismo, alle fake news, al mondo della web reputation, quindi tutte quelle che sono un po' le problematiche che i ragazzi possono vivere da vicino. La modalità è sempre quella, partiamo da una situazione pratica, da una situazione che abbiamo vissuto, la analizziamo e poi diamo dei suggerimenti pratici, cioè diciamo alle persone guarda che di fronte a questa situazione puoi agire in un modo, puoi agire in un altro, cerchiamo di provocare le persone, non le lasciamo semplicemente a ragionare, ma cerchiamo di essere uno stimolo perché il libro vuole veramente essere uno strumento pratico di educazione attiva e passiva, perché lo diceva prima Marco, educarsi ed educare, ci teniamo noi a ribadire sempre che il target del libro siamo tutti, siamo in primis noi adulti e poi in seconda battuta i ragazzi, perché purtroppo oggi è molto difficile educare se non con l'esempio, quindi se a tavola i genitori sono i primi a utilizzare il cellulare e a distrarsi da quella che è la mensa e l'opportunità di condividere quanto fatto nella giornata con i figli, è difficile poi potergli dire qualcosa, quindi gli esempi sono tanti, riprendevo il discorso delle fake news, piuttosto che i videogiochi online, l'abuso che alcune volte si fa di determinate cose, partendo da un presupposto a cui io tengo sempre molto, cioè che la tecnologia è neutra, non esiste una tecnologia cattiva o una tecnologia buona, esistono delle persone che con la tecnologia in mano fanno cose più o meno buone, più o meno cattive, ecco su questo infatti diciamo a me non piace moltissimo la dicotomia rischi e vantaggi del web, perché la tecnologia è la tecnologia appunto e basta, poi nelle mani dell'uomo può diventare uno strumento meraviglioso o un'arma o uno strumento terribile, e per fare questo, cioè per questo discernimento è opportuno che la gente sia educata a capire cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa è opportuno fare, cosa non è opportuno fare, basta esempio pensare alla condivisione delle foto sui social o alla web reputation, cioè all'idea che si dà degli altri attraverso il proprio profilo, ecco questo solo per citare alcuni degli argomenti, poi un appendice importante invece l'abbiamo voluta dedicare, visto quello che è successo alla didattica a distanza, ma non soffermandoci sui tecnicismi e quindi parlando di questa piattaforma piuttosto che dell'altra, ma proprio sull'aspetto comportamentale, cioè come i soggetti attori della didattica a distanza, e cioè scuola, genitori e ragazzi, insieme possono rendere questo strumento più o meno valido, perché comunque la didattica a distanza ci ha aiutato, ci ha aiutato se gestite in maniera opportuna da questi tre attori. Allora, approfittiamo di questa mezz'oretta che ci resta, anche meno, che ci resta perché fermo restando che il libro va acquistato e letto, utilizziamo però la vostra presenza in trasmissione per rendere tutto questo utile a chi ci ascolta. Allora, Marco, che tipo di consigli possiamo dare a chi ci ascolta? Entriamo nel pratico. Intanto, quello che mi viene in mente è che il virtuale è reale ed è verbo con l'accento, perché a volte pensiamo che quello che avviene online non sia reale, però se poi ci pensiamo e ci fermiamo un attimo, che cosa non è reale? Per esempio, acquistiamo del cibo, gestiamo il nostro denaro, ci innamoriamo, creiamo delle amicizie, studiamo, lavoriamo, in questo momento ci confrontiamo su questo tipo di temi, studiamo e tant'altro. Ecco, quanto possiamo dire che questo non sia reale? E allora, poter pensare di essere dentro il mondo del web, in rete, in internet, sui social, persone diverse da quelle che siamo poi nella vita, che potremmo chiamare altre, questo non ha senso, forse poteva avere senso 25-30 anni fa all'inizio del web, di internet e pian piano con i social, ma adesso non è più così, per questo è necessario essere consapevoli che non è diverso, perché questo ci porterà probabilmente a un sano equilibrio, perché a volte pensiamo, riteniamo di poterci nascondere magari dietro alcuni aspetti di solito del web, perché tanto non mi vede nessuno, oppure tanto resta lì, tanto è il mio piccolo mondo, no, la prima cosa da fare è essere consapevoli, perché le conseguenze ci sono, in positivo così come in negativo. Fredi, anche a lei ovviamente entriamo nel vivo degli esempi tangibili che possono essere ascoltati da quanti ci stanno seguendo. Ma allora, parlando di esempi, un discorso relativo alle forme di comunicazione, cioè alle parole che si usano attraverso questi strumenti, oggi appunto ribadivo che ho parlato con alcuni ragazzi di alcune problematiche relative all'uso dei social nella coppia e nella sessualità dei giovani. Nelle liti, quando si litiga all'interno di una coppia, è molto diverso il litigare attraverso WhatsApp o al litigare di presenza. In WhatsApp spesso c'è un fiume di parole che non avendo nessuno davanti va a sommarsi a diventare sempre più letale, sempre più grave, mentre invece la comunicazione non verbale facilitata dalla presenza, questa cosa la mitica molto. Un altro tema di cui abbiamo parlato e sul quale ovviamente è utile attenzionare i ragazzi è il problema del sexting, cioè di questo uso o di questa cattiva abitudine che spesso i ragazzi hanno di scambiarsi delle foto intime, perché magari si ha fiducia nel compagno, nella compagna, nel primo fidanzatino, nella prima fidanzatina e poi magari non ci si rende conto che questo è il primo passo di quello che poi alcune volte si tramuta nel famoso revenge porn, per cui l'Italia ha adottato adesso una nuova legge, perché poi nelle mani di un ragazzo deluso, di una ragazza delusa, questo può diventare un'arma fatale nella quale la giustizia non ha i tempi della tecnologia e quindi illudersi del fatto che poi la persona possa essere comunque perseguita, sicuramente non impedisce alla foto di essere, di navigare in maniera molto più veloce e di diffondersi creando malessere poi nella vittima. Ecco noi dovremmo avere anche un video, prego la regia di mandarlo in onda, che è un po' è un promo di tutto quello che stiamo discutendo in questa trasmissione, lo sentiamo un attimo insieme, sentiamolo un attimo. Un vero manuale per orientarsi nel mondo digitale odierno, innanzitutto vorrei chiedere a lei come esperto quali sono le potenzialità del web e del mondo digitale oggi? Ma le potenzialità sono quelle che un po' abbiamo conosciuto in questi anni, cioè velocità, riduzione dei costi, riduzione anche degli spostamenti che ci permettono comunque di migliorare anche l'ambiente costringendoci a stare di più a casa, magari e meno in macchina. Ma io vorrei parlare invece di quelle che sono alcuni casi pratici che poi fanno percepire quanto è bella oggi la vita digitale e che cosa si può fare. In un post che abbiamo messo sulla pagina Facebook del nostro libro, ad esempio, si parla dell'Io Oratorio, una bellissima esperienza che alcuni ragazzi della periferia di Mumbai insieme ai Salesiani hanno creato e che oggi conta più di 250 ragazzi in vali e province indiane che attraverso il web si collegano perché loro non hanno assolutamente didattica a distanza. Un'altra esperienza l'abbiamo fatta noi salesiani a San Francesco di Sales con una web radio durante il periodo del lockdown che ha cercato di tenere più strette le compagnie della nostra scuola, genitori e ragazzi. Cosa dire, due miei ex allievi di 30 anni fa oggi hanno postato sulla loro pagina l'arrivo del figlio. Giancarlo e Valeria dopo tantissimi anni e questa è un'altra bellezza perché ci permette di tenere stretti i rapporti con gli altri. Se non avessi avuto Facebook o i social non sarei riuscito dopo ben 22 anni a rincontrare i miei compagni delle elementari. È anche vero che oltre a tutti i vantaggi ci possono essere anche dei rischi. Nel libro le analizzate in qualche modo. Quali sono i principali? Ma io uso sempre una metafora. Quando noi andiamo in una nuova città ci prepariamo un po', compriamo una guida, magari chiediamo a qualche amico, ci informiamo su internet. Per fare che cosa? Per evitare i rischi, per evitare cattivi incontri, per evitare di perdere tempo, per evitare di vedere cose brutte, per evitare di essere truffati. Guarda caso queste quattro cose sono i quattro maggiori pericoli del web. E allora cosa bisogna fare? Anche per il web bisogna formarsi, bisogna educarsi, come dice il libro. E questo fa da filtro a tutti questi pericoli. Il testo è ricchissimo, tratta tantissimi punti del web, però ce n'è uno molto attuale che è la didattica a distanza. Quali sono i pro e i contro di questo nuovo strumento? Io faccio la similitudine con la medicina. Se io sto male prendo una medicina, la medicina la prendo nell'emergenza. E lo sciroppo per la mia tosse, il sapore dello sciroppo della mia tosse, dipende dalla sinergia tra i quattro componenti fondamentali della didattica a distanza. Il dirigente scolastico, i docenti, gli alunni e i genitori. Se questi quattro protagonisti lavorano bene in sinergia, allora la medicina andrà bene. L'Italia ha percepito la didattica a distanza in maniera molto soggettiva, perché a secondo di come hanno operato quei quattro fattori, noi abbiamo esperienze splendide che nel futuro porteranno dietro esempi virtuosi di applicabilità della didattica a distanza e persone che invece probabilmente hanno perso un'occasione da questo punto di vista. Bene, grazie di cuore perché abbiamo sicuramente grandi strumenti per saperci orientare in un mondo che è reale, anche se virtuale. Ecco, allora, bellissima questa intervista realizzata nel corso della trasmissione Viaggi nel Cuore. Partiamo dall'ultima frase detta, che è un po' quello che diceva anche Marco Pappalardo. Pensiamo che il web sia un mondo non reale, in realtà lo è, e tutto quello che noi facciamo, poi alla fine ce lo ritroviamo. Non è solo negativo, ci sono tanti altri vantaggi, ovviamente in questo, però è giusto evitare delle problematiche che in qualche maniera si possono poi ripetere e che poi causano inevitabilmente i fatti di cronaca che ultimamente si sono registrati, il cyberbullismo, vedere fotografie che magari pensavamo di aver dato al nostro amato o amata, che poi invece spopolano sul web, critiche, insomma, voglio dire, è una situazione complicata. Marco, cosa possiamo consigliare ai giovani che ci stanno guardando e ai genitori altrettanto? Sì, vi consigliamo davvero a tutti, anche perché soprattutto questi fenomeni che tu hai citato sono fenomeni che comunque riguardano anche gli adulti, cioè gli ultimi fatti di cronaca, almeno quelli che la cronaca ha portato in risalto, alcuni tra questi hanno comunque sempre a che fare con degli adulti. Dalla storia della ragazzina di Palermo, che purtroppo seguendo probabilmente TikTok è morta, il cui padre a un certo punto, persona certamente disperata, a un certo punto ha dichiarato che i social, l'internet era tutta la sua vita a dieci anni, cioè questo ci deve fare pensare se tutta la vita di una ragazzina a quell'età è un social, no? Poi l'influencer anche lei del Siracusano, se non ricordo male, che due settimane fa è stata arrestata perché anche lei tra le cose consigliava, molto seguita consigliava anche qui di fare queste azioni pericolose, qui di stringersi al collo qualcosa per fare a gara questo. La recente retata contro alcuni minori e non solo che seguivano e producevano materiale pedopornografico. Oppure ancora, cos'era, mi se non ricordo male allicata, quei giovani e adulti, perché erano da 20 e 30 anni che picchiavano e filmavano persone diversamente abili. Qui non parliamo quindi solo di ragazzini, qui parliamo anche di giovani e parliamo di adulti. Dunque la questione è davvero molto calda e scottante, quindi gli errori, appunto da questo punto di vista, li possono commettere tutti e poi diventano reali e si trasformano. Allora noi puntiamo su un'azione preventiva, che vorremmo che non si arrivasse mai a questo punto, il meno possibile, perché è chiaro che la delinquenza c'è sempre stata e c'è anche fuori dal web, non è che è solo che il web rischia di amplificarla, rischia oppure di creare nuove forme di delinquenza oppure di azioni legali, però nel momento in cui siamo formati, preparati, abbiamo sicuramente meno rischi, perché sappiamo come muoverci in un territorio complesso, come del resto si diceva nell'intervista. Allora la cosa secondo me con cui tutti dovremmo tenere, con tutti i più grandi, è quella di non pensare di sapere tutto, perché il primo impatto che ci può essere dinanzi a questo o tutti gli adulti, ma se io queste cose le so, oppure qualcuno dirà ma che c'è di male, oppure vabbè sì mica lo devo andare a cercare da qualche parte, in un libro o altro. Ecco questa è una delle prime situazioni per le quali poi la persona rischia di cadere e di sbagliare, è un po' come accade anche nella dipendenza del web o in ogni dipendenza, quando si dice io smetto quando voglio, oppure non è un problema mio, ecco in quei due casi in effetti il problema è tuo ed è difficile smettere. Ecco, Freddy Petralia, come animatore digitale, quali sono, quale riscontrate, quali sono, non dico i problemi, ma insomma ciò che i giovani in qualche maniera danno per scontato, o poi cadendo in una rete che li divora invece ovviamente di aiutarli. Allora, spesso l'ignoranza di alcune situazioni, mi fece ridere uno delle persone invitate alla presentazione che disse, dice ma sapete il vostro libro non credo andrà molto bene perché voi dite delle cose scomode e alla gente non piace sentirsi dire cose scomode. Una di queste cose scomode ad esempio è il disincentivare assolutamente l'acquisto dei cellulari per i bambini almeno fino alla primaria e invece noi continuiamo a vedere bambini di otto anni con il loro profilo, la sim e già dei gruppi su WhatsApp messi ore e ore a giocare a questo o a quello. La cosa grave che non si percepisce e che è la grande differenza tra la televisione di una volta e il web di ora è che sul web non ci sono filtri, soprattutto per i più piccoli e quindi un bambino di otto anni non ha le categorie mentali per percepire e capire determinati video, determinati fenomeni che gli arrivano direttamente e nessun adulto riuscirà ad avere il pieno controllo su quello che avviene o che viene mostrato. Quindi un primo problema è appunto l'ignoranza o la capacità di non saper discernere. Poi io punto molto sempre sul discorso della web reputation, cioè non si capisce quali sono le conseguenze di determinati gesti che vengono fatti. Noi collaboriamo da anni con la polizia postale e una delle cose che spesso gli agenti amici ci dicono è che i ragazzi che poi arrivano in lacrime in determinate situazioni ci dicono ma noi non lo sapevamo che era reato. Quindi spesso per loro poi alcune dinamiche diventano quasi una routine e non si rendono conto della gravità dei gesti che compiono. Ecco perché formarsi in questo senso è fondamentale. Ripeto, ma non formarsi da un punto di vista tecnico, perché il fatto di essere nativi digitali li mette a riparo da una ignoranza tecnica. Loro sono bravissimi a postare una foto. Il problema è che non capiscono quando è il caso di farlo meno. Cioè è questa la differenza importante. E ripeto, poi ci sono anche altri discorsi legati al mondo degli adulti. Ad esempio adesso c'è un nuovo fenomeno che si chiama fubbing, che è la tentazione che si ha a isolarsi col cellulare rispetto alle persone che si stanno vicine. Quindi marito e moglie che dai due lati del divano guardano i propri profili Facebook o seduti al tavolo del ristorante. Questo esempio è una problematica molto grave che dovrebbe essere ribadita. Cioè le persone sono più importanti delle cose, a 360 gradi. E quindi bisogna cominciare anche con un regolamento a casa, è uno dei suggerimenti che noi diamo ad esempio, di temporizzare l'uso del cellulare. Ci dovrebbero essere dei momenti della giornata nei quali il cellulare va messo da parte e va spento. Perché bisogna dare più spazio e più tempo alle relazioni e alle persone. Io so che lei deve andare perché è alle 15.55, giusto? Se non sbaglio, a lezione. Ancora qualche minuto posso stare. Allora me lo dica lei, me lo dica lei quando deve andare dai suoi ragazzi. Tra l'altro vedo che a scuola riconosco perfettamente quelle vetrate con FS, Francesco Di Sales, che mi hanno visto. Sono direttamente dal mio posto di lavoro, sì sì, direttamente da qui. Esatto, esatto. I salisiani sono davvero, la scuola di salisiani sono davvero un ottimo istituto e danno un'impronta davvero importante alla crescita dei ragazzi come d'altronde voleva e ha fatto Don Bosco. Marco, a proposito di Don Bosco, secondo te oggi Don Bosco cosa fare, come si relazionerebbe con il web? Perché lui era uno che comunque guardava sempre avanti, no? Sì, sì, no, Don Bosco diceva già al suo tempo che, e diceva ai suoi salisiani che avrebbe fatto di tutto perché ciò che i ragazzi potessero avere di più avanzato dal punto di vista tecnologico di quel tempo dovessero averlo. Non dimentichiamo che partecipò all'esposizione universale, per esempio, no? Con delle sue macchine tipografiche che erano all'avanguardia. Ma quello che mi piace pensare vedendo questa figura di educatore è che lui oggi direbbe agli educatori, tutti, non solo i religiosi o chi frequenta gli ambienti educativi, che cosa fate voi? Cosa fareste voi? Io ho raccontato per il quotidiano avvenire, proprio nella settimana scorsa, proprio intorno alla celebrazione della festa di Don Bosco, nelle storie che raccontano oggi cosa fanno queste persone. E proprio nel tempo in cui si diceva il peggio di TikTok, per esempio, nella storia di un giovane salisiano di Ragusa che su TikTok ha iniziato durante una storia di tempo di riflessione e di preghiera per quei ragazzi che nel cortile dell'oratorio in quel periodo non potevano andare più. E allora da lì ha poi continuato, ma non si è fermato a questo, tra l'altro facendolo anche bene, in modo efficace, e quando ha potuto ritrovare ragazzi durante l'estate ha coinvolto anche loro. Nel frattempo, quindi, educandoli allo strumento e aiutando a produrre insieme a loro qualcosa di interessante da fare insieme. Questo per dire che non è così come un'altra storia che ho raccolto, per esempio, a Gela, anche in un oratorio, una realtà problematica di un quartiere difficile, dove non hanno mai smesso di incontrarsi, per esempio, i gruppi, i cammino, i formativi, i ragatechesi, lo sport, perché hanno fatto in modo che attraverso questi strumenti si potesse ancora continuare a tenere quelle relazioni e quei legami per lottare contro la solitudine, ma anche avere delle opportunità di riflessione. E ci sono poi tantissime altre realtà che continuano a mettersi in gioco a partire da questi strumenti e speriamo possano, come si diceva all'inizio, utilizzarli anche in tempi, diciamo, di pace e di serenità, perché a proposito di Don Bosco diceva amate ciò che amano i giovani, così i giovani ameranno ciò che amate voi. Ed è certo che i giovani amano questo tipo di tecnologie e di strumenti, allora perché non trasformarli in qualcosa di efficace e di importante come con lo sport, come con il teatro, come con la musica. Ecco, così come Don Bosco ha sempre creduto in questo tipo di realtà, certamente avrebbe creduto anche in questo. E l'ultima cosa che mi sembra significativa e vale per tutte le realtà, anche quelle laiche naturalmente, è che il web è anche un ambiente ed può essere un ambiente da educare, un ambiente educativo, così come lo è l'aula di una scuola, la sala parrocchiale, come lo è il cortile di un oratorio e così via. Allora anche lì naturalmente bisogna essere presenti, perché se in una sala in cui ci sono il calcetto, il bigliardino e il computer, non ci sono gli educatori, gli animatori, o in un'aula in cui non c'è un professore, prima o poi qualche cosa succede di negativo. Se ci sei invece puoi essere presente in modo significativo. Quindi comunque è l'importante essere sempre vicini ai nostri figli, agli alunni, comunque mantenere un rapporto, perché poi alla fine il web non è che vuol dire va demonizzato, va semplicemente strutturato, giusto Freddy? Sì, sì, assolutamente sì, è una cosa che noi ribadiamo sempre, cioè è una realtà dalla quale non si può prescindere, è una realtà che ci ha salvato. Io l'altro giorno dicevo ai miei ragazzi, voi ci pensate a questa pandemia vent'anni fa, cioè sarebbe stato un incubo oltre quello che già è stato. Grazie alla tecnologia noi abbiamo potuto continuare la scuola, abbiamo potuto vedere film, partiti, ascoltare musica, abbiamo potuto guardare i parenti, ci abbiamo potuto incontrare con gli amici, quindi la tecnologia ci ha salvato, non bisogna assolutamente, il libro è lungi da un giudizio negativo sulla tecnologia. L'importante però è non essere superficiali e capire che va conosciuta perché a far danni ci vuole poco. E più inesperti si è, più è facile fare danni. Ripeto, non tanto da un punto di vista tecnologico, quando realmente da un punto di vista relazionale, cioè comportamenti sbagliati, relazioni diciamo non sane che si sviluppano avendo come punto di riferimento esclusivamente la tecnologia, creano problemi. Invece bisogna tornare a distinguere quando è essenziale la relazione dal vero e la nostra comunicazione non verbale da questo punto di vista è fondamentale e quanto invece ci può aiutare a essere utile alla tecnologia. Cioè bisogna contestualizzare e capire quando va usata l'una e quando va usata l'altra. Quindi avere la capacità di discernere quando io devo poter parlare tranquillamente, anche con una bella videoconferenza o con un bello strumento come stiamo facendo noi oggi, oppure se è il caso di chiudere il telefono andare a trovare quell'amico di persona e scambiare con lui delle parole perché magari quando sarà possibile un abbraccio, anche una relazione non verbale, guardare le sue lacrime, stargli vicino in un momento difficile, può essere importante. Ecco io credo che questa sia la grande differenza. Il web è uno strumento meraviglioso ma non ci deve desumanizzare. Cioè noi abbiamo delle caratteristiche che in quanto esseri umani dobbiamo mantenere. In questo senso potremmo aprire ore e ore di discussione, ad esempio sul ruolo dell'intelligenza artificiale in quella che sarà la vita dei prossimi anni e su questo ad esempio è un tema sul quale bisogna prepararsi perché lì ci giochiamo tanto e quindi abituare i ragazzi a queste tematiche e abituarli a imparare e imparare, quindi continuare a educarsi da questo punto di vista è fondamentale. Io adesso vi devo lasciare perché i miei piccoli... Sì, tanto siamo davvero in chiusura, quindi siamo davvero in chiusura. Marco, vuoi aggiungere qualcosa velocemente anche tu così poi salutiamo tutti quanti? Sì, io aggiungo che la responsabilità è corresponsabilità nell'uso di questi strumenti perché nei fenomeni soprattutto citati per esempio del sexting diventa revenge porn e quindi magari del passaggio di immagini di questo tipo ma anche di altro che a volte nel cyberbullismo può passare pure questo tipo di immagine di violenza e altro che la responsabilità non solo di chi agisce, di chi filma, ma anche di chi sta a guardare, di chi condivide, di chi mette mi piace, anzi a volte è un'indifferenza o una migliaccheria, chiamola come vogliamo, ancora più grave. La colpa non è solo di... io faccio sempre un esempio veloce di quella che tra l'altro è capitato nel mondo degli adulti, di quel padre che a un certo punto nel gruppo dei suoi, non so, del calcetto, vede i suoi colleghi, vede e vi passa un video di quella maestra, un video diciamo di privato, intimo della maestra e di sua figlia, lo fa vedere alla moglie e la moglie a tutto punto anziché prendersela col marito per esempio per il fatto che aveva questo video nel suo telefono e lo condivideva, si è riposto probabilmente a questo problema, si è stata la moglie e è andata dalla preside a denunciare la maestra che comunque nella sua intimità aveva vissuto quello, un po' piacere, un po' piacere e purtroppo poi il fidanzato e così via l'ha fatto girare, ecco vedete che poi di chi è la responsabilità di tutta questa cosa quando giriamo? Possibile bisogna arrivare sempre alla giustizia e al tribunale per risolvere le questioni o ci vuole forse un po' di equilibrio da parte di tutti in cercare di mettersi nei panni dell'altro e soprattutto di non rovinare la vita a nessuno. Allora responsabilità e corresponsabilità a tutte le età. Grazie ancora, ovviamente potete seguire quelle che è l'evoluzione di questo importante progetto messo appunto da Marco Pappalardo e Freddy Petrelia anche sulla pagina Facebook di Educare, educarsi al web, ci sono sempre via via delle argomentazioni molto interessanti che sono valide sia per gli adulti che per i ragazzi, ringrazio davvero Marco e Freddy per questo loro lavoro che continuano a fare incessante sul territorio e per essere stati ospiti di Medex News. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi sulla pagina. Esatto. Grazie, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti voi.